Noè crede alla parola di Dio. 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 Dio parlo allora a Noè dicendo, esci dall'arca tu, tua moglie, i tuoi figli e le moglie dei tuoi figli con te, tutti gli animali che sono con te. Il cuore dell'uomo concepisce i disegni malvagi fin dall'adolescenza, non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto. Dio. 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 Dio.